Come benzina sul fuoco, le fiamme delle ritorsioni, delle vendette, dei regolamenti di conti all'interno della malavita sono divampate a Bari nelle ultime ore. Quasi in rapida successione, due agguati in ore e luoghi che confermano la baldanza delle menti e delle braccia criminali in azione nel capoluogo. Ieri, poco prima delle 20, un 33enne, Tommaso Miolla, è stato ferito in un agguato compiuto in via Quintino Sella, in pieno centro. L'uomo era in un centro scommesse quando due sicari, arrivati a bordo di uno scooter con il volto coperto da caschi, hanno aperto il fuoco colpendo due volte Miolla alle spalle. Il ferito è uscito dal negozio, si è trascinato in via Calefati per poi crollare al suolo. Ora è in ospedale, ma non in pericolo di vita. Miolla sarebbe collegato al clan Strisciuglio. Questo accadeva a Bari in pieno centro, in un'ora di grande frequentazione pubblica, soltanto sette ore dopo un altro agguato verificatosi in via Appulo, nel quartiere Iapigia, dove sono stati esplossi cinque colpi di pistola contro il 22enne incensurato Antonio De Fano. Anche in questo caso l'intento era di uccidere, ma il ragazzo è stato ancora più fortunato perché uno dei colpi si è fermato sotto pelle all'altezza della nuca e gli altri sono finiti contro un'auto. A carico di De Fano c'è solo una denuncia per resistenza pubblico ufficiale. Non è affiliato a nessun clan, ma frequenta gente vicina alla famiglia Parisi. Clan tirato in ballo perché, appena lunedì scorso, sempre a Bari e sempre nel rione Iapigia, il 19enne Cristian Lovreglio, nipote di Savinuccio Parisi, era stato gambizzato al termine di una partita di calcetto nel centro sportivo De Palma.